bello a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo tornati su fifa 21 con i nostri gamberetti allora signori oggi prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale vi ringrazio per il like, per i commenti, per gli suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate come maullo941 sia su instagram che su facebook dove vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live di solito mi trovate in live ogni sera alle 9 e mezza su questa piattaforma e poi niente vi ricordo di guardare, di dare un occhio ai link in descrizione al video perché trovate sia il link per gli abbonamenti e per le donazioni sia i link dei canali che sono abbonati e che quindi se volete fare un salto dai loro canali per vedere i loro contenuti mi fa piacere detto bene signori non perdiamo altro tempo e partiamo con il video allora signori piccola cosa che voglio fare prima di partire con il video voglio abbassare un attimino il volume della telecronaca audio generale, audio telecronaca, italiano, volume telecronaca abbassiamolo un poco così non dà troppo fastidio gli effetti stadio vanno bene, li teniamo così, va bene detto questo sistemiamo la formazione, Aladino vuole giocare di nuovo Aladino mi sa che stai un attimo intriccando troppo sto attraversando un buon momento, va bene, ci penseremo Aladino ti stai un attimo intriccando troppo ah no, è Let's Meet, scusami ok, niente, ho fatto confusione, ho visto tutti e due biondi, mi sono un attimo confuso andiamo contro il Blackpool andiamo del Blackpool, andiamo in gestione squadra ok allora, vediamo un attimo, sto con Aladino o no facciamo Let's Meet qui diamo un turno a Magri, così prende spazio Wilding Canyon, leviamo Wilding e facciamo giocare mi è piaciuto tanto, dove sta? mi è piaciuto tanto il nostro piccolo Luna il nostro piccolo Luna mi è piaciuto tanto vediamo se riusciamo a farlo migliorare ancora giardino, diamo un turno a Kantè qui gioca Gibson ok, Lavello riposa per Greves e Clark è sulla destra a base là e in porta stavolta gioca Spike va bene facciamo un poco di rotazione l'unica cosa, aspettate, che voglio vedere la panchina chi ci stiamo portando Loroyle, Lavelle, Mellor Sullivan, Diagurano, non ce la faccio signori preferisco Songo ma Diagurano, Aladin e Scott va bene potremmo portarci Miura ci portiamo a Miura, gli diamo una possibilità di giocare dai, portiamoci Miura devo rinnovare il contratto a Miura, signori devo vedere se riesco a rinnovare il contratto a Miura almeno per un'altra stagione lo voglio portare a 60 anni che gioca ancora a calcio lo voglio far giocare fino a 60 anni sono una brutta persona sì, sono una brutta persona ci siamo, signori Morecambe, Blackpool vediamo cosa succede abbiamo bisogno di tre punti per forza, signori come se non ci fossero domani abbiamo bisogno di tre punti per cercare di risalire in classifica grande Lee Smith grande Lee Smith che ne fa fuori tutti arriva fino in fondo fermati Lee Smith va bene, va bene rientra bene Lee Smith sul piede quello buono sul piede quello buono mannaggia a te peccato peccato, peccato l'azione era buona ce la siamo fatta fregare proprio all'ultimo dai, dai, dai fermi, fermi, fermi che riusciamo no, non riusciamo più a recuperare il pallone il nostro piccolo Luna il nostro piccolo Luna il nostro piccolo Luna vede buono il movimento di McGree McGree, 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 McGree si ferma, si ferma la ridà al piccolo Luna al piccolo Luna piccolo Luna che entra in aria entra in aria il piccolo Luna no, perché lì mannaggia mamma mia era bellissima l'azione il piccolo Luna e McGree funzionano piccolo Luna e McGree funzionano occhio a loro però che sono i partiti occhio a loro che sono i partiti chi abbiamo? Gibson Gibson eppure lento mamma mia come è lento Gibson non abbiamo un esterno veloce signori non abbiamo un esterno veloce però teniamoli la palla teniamoli la palla non abbiamo tenuto lì la palla stiamo attenti signori perché sempre grande Grievous grandissimo Grievous con calma con calma con calma gestiamo la palla gestiamo la palla signori con calma gestiamo la palla con calma 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 è sangue freddo Clark buono McGree bravo McGree che vede il piccolo Luna che vede le Smith grandissimi signori stiamo facendo il devasto mi piace mi piace mi piace sta squadra grande fermati 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 le Smith si è impappinato si è impappinato le Smith si è impappinato le Smith ma no è fuori gioco ma porca auguri di buon Natale porca miseria dai dai giochiamo bene signori su questa fascia stiamo facendo lo sfracello tra McGree e Luna e il piccolo Luna iiii va se là si fa superare come un ostacolo in una gara ostacoli praticamente calma 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 fuori la palla ma cosa cazzo non è successo mamma mia meno male che era fuori gioco hanno preso due pali impressionante ma cosa cazzo non l'ho appena visto mamma mia sono terribili questi bisogna stare attenti quando arrivano sotto porta va bene dai 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 calma 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 dai McGree dai McGree dai McGree dai McGree dai McGree dai McGree guarda là dietro ancora tu ancora tu ancora tu ma chi è fuori gioco no ma che cacca attenzione ci crediamo signori ci crediamo ci crediamo ci crediamo qualcuno che parta così bello 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 1 a 0 dai così dai così lei smith che forse ha avuto un figlio non lo so però festeggia con i compagni grande lei smith dai così la sblocchiamo la sblocchiamo noi signori 1 a 0 per noi bello 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 il gol bello il gol va bene così ora non facciamo stupidaggine e teniamo non facciamo stupidaggine e teniamo l'ubulla l'ubulla attenzione attenzione leva 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 sta palla leva sta palla leva sta palla velocissimamente va bene va bene siamo usciti siamo usciti bene bene siamo usciti bene soffrendo no 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 eravamo usciti bene eravamo usciti bene no 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 sono andato a fragole sono andato a fragole grandissimo l'intervento di Mel Gibson Mel Gibson che lo passa a Cantè dai Cantè avevi praterie per andare Cantè perché non sei andato avevamo praterie per andare con Cantè attenzione perché il Blackpool sta prendendo sta prendendo grande Spike tienila lì tienila lì che è finita è finita il primo tempo è finita il primo tempo è finita è qui sono tutti marcati vaffan bagno parla bravissimo parla per Cantè Cantè bravo Cantè bravo Cantè bravissimo Cantè teniamola lì teniamola lì calma giocata buona per il piccolo Luna finisce il primo tempo fa così buono 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 mi è piaciuto mi è piaciuto questo primo tempo molto buono molto buono si riparte signori si riparte si riparte dai 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 non ho fatto nessuna sostituzione perché non la squadra sta reggendo bene per ora quindi sinceramente andare a modificare gli equilibri non mi sembrava il caso attenzione attenzione Mel Gibson è tutto tuo Mel è tutto tuo Mel Mel che cazzarola fai Mel no signori non lo so è un tappeto rosso ma porca hanno pareggiato hanno pareggiato error raccio noi error raccio nostro signori error raccio nostro non so dove è salito del tizio però va bene era raccio nostro dovevo hanno fatto quello che volevano hanno fatto quello che volevano in aria nostra e va bene 1-1 tutto da rifare per il Morecambe attenzione ancora loro con l'Ubulla l'Ubala l'Ubala attenzione no sono entrati in aria mamma mia che lo vedo difficile questo secondo tempo signori lo vedo molto difficile lo vedo molto difficile però vediamo cosa succede vediamo cosa succede bravissimo cercalo grande Kanon grande Kanon dai 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 su quella fascia mamma che stai lento Kanon mamma che stai lento però ti lascia spazio ti lascia spazio e questo è un gravissimo errore ti lascia spazio e questo è un gravissimo errore dai 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 2-1 2-1 per noi 2-1 per noi Stoccon il Qualcommand Qualcommand Stoccon dai così 2-1 va bene 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 dai 2-1 buono così l'abbiamo ripresa l'abbiamo ripresa signori siamo ripresi 3 punti vediamo di non fare altre cretinate sulle fasce ci 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 asfaltano abbiamo dei giocatori sulle fasce che sono ecco appunto 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 cosa ho appena detto che sulle fasce ci asfaltano va bene grandissimo va se là dai usciamo con calma signori con calma intelligente bravissimi i miei due centrali difensivi bravissimi Stoccon con calma con calma guarda guarda no va bene va bene Kanté 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 bravo Kanté bravissimo Kanté che riesce a girare entra in aria Kanté ma porca miseria avevamo fatto tanto bene e poi ci siamo persi all'ultimo non la può prendere nera nè mai infatti non la prende nera nè mai chi mi chiese Mune per O'Sullivan ma il piccolo 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 luna non è facciamo dei cambi facciamo dei cambi la Mune è distrutto ok Mune per O'Sungo va bene così Kanté Kanté Giardino me lo sono partito no Magri per aspettate O'Sullivan sa fare l'esterno sinistro no quindi gioco solamente a destra e in attacco leviamo stocco con la torre del gol e facciamo entrare dentro Miura signorai signori esordi in campionato per Miura lo so che non c'entrava niente in questa sostituzione però dai diamo l'esordi a Miura diamo l'esordi a Miura il Ligue 1 dai vediamo se trova il gol Miura signori cade tutto scende tutto lo stadio se trova il gol Miura scende tutto lo stadio Mel 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 che lancialo lancialo bellissimo per Cantè dai Cantè dai Cantè guarda proprio Miura guarda ancora Miura no perché gliel'ha data così male Cantè Miura 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 la tiene al centrocampo va bene Miura Miura gioca intelligente mi piace questa cosa bravo Miura Cantè ancora su quella fascia Cantè 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 Miura 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 Le Smith Le Smith Le Smith Le Smith il compagno sbagliato e niente la palla rimane lì 84esimo signori non giochiamo sul velluto la partita ancora in bilico e questi tre punti ci servono soprattutto contro il Blackpool che è quinta ed è sopra di noi ci servono come il pane questi punti per cercare di iniziare la risalina in classifica ecco appunto ma porca miseria no 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 Spike grandissimo Spike tienila lì 89esimo tienila lì Spike che te frega fate Ammoni fate Speller fai quello che vuoi Mer Gibson la stoppa in maniera terribile Kanon Kanon Miura Miura si gira bello Miura che in velocità non so quanto abbia ma pochissimo forse è finita dai così dai così dai così 2-1 torniamo a vincere in campionato signori perché c'è cappello quello sono io ma perché c'è la maglia del sono sceso in campo sono sceso in campo pure io grande è proprio ma quello che scende anche lui in campo bella così dai dai importante questa vittoria importante questa vittoria ok signori Allora LeSmith ci ringrazia per averlo fatto giocare grazie a te LeSmith che ci avevi portato in vantaggio ed è stata una gran bella prestazione bravo LeSmith bravo LeSmith allora andiamo avanti con le giornate e arriviamo praticamente agli ultimi giorni di mercato simula tutto va bene va bene simula tutto io però devo sistemare perché sennò si allenano sempre gli stessi infatti offerta per il trasferimento per wielding wielding no no neanche wielding si può muovere signori noi abbiamo Zongo ti auguro che sono sul mercato e non li vuole nessuno però va bene allora signori arriviamo all'ultimo giorno che è questo è il mercato e io mi fermo qui signori per questo video mi fermo qua vi ringrazio per i like per i commenti per i suoi genitori e per il supporto spero che questa nuova modalità di farle partite in questa maniera vi piaccia di più noi ci sentiamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto bella raga ciao 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 ciao